E sottoscrivono per il Governo il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, per la Regione il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Una firma importantissima, quella apposta al Teatro Verdi di Pordenone dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027. Un piano che non ha colore politico, ricorda Fedriga, ma che serve solo ad aumentare la sicurezza di un territorio come quello della Regione. In quel momento di mandato capire che non esistono colori politici ma esiste l'interesse pubblico e su questo l'FSC e questo accordo è stato basato. Prende poi la parola Giorgia Meloni, applauditissima dal teatro e la Premier illustra come i 190 milioni previsti dall'FSC vadano a finanziare 17 interventi strategici, in particolare sul dissesto idrogeologico, potenziamento dell'infrastruttura idrica e la questione della mobilità sostenibile. Non è semplicemente trasferire delle risorse e fare una manifestazione nella quale ci diciamo che siamo bravi. Stanziamo complessivamente 190 milioni di euro, di questi 16 erano già stati anticipati nel 2021. Sono risorse che servono a finanziare 17 interventi strategici. Io mi limito a sottolineare ancora i 77 milioni di impianti di irrigazione agricola per diversi comuni della provincia di Udine. Gli 80 milioni per lo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonso, che è un'opera strategica fondamentale. Quando tu riesci a fare qualcosa che impedisce un problema, un disastro, una tragedia, non ti verrà mai riconosciuto, perché nessuno lo saprà mai se sei riuscito a evitare quel disastro o quella tragedia. Questo è un territorio che può sicuramente capire quello che sto dicendo, perché quando qui si è abbattuto il terremoto è diventato un modello la ricostruzione di questo territorio, è diventato un modello che noi ancora raccontiamo, che ancora esportiamo. Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Era il modello del pragmatismo, dell'operatività, del lavoro che garantisce tutti gli altri diritti. E alla fine Pordenone fa sentire tutto il suo abbraccio a Giorgia Meloni.